Aveva 60 anni, il mesinese è rimasto vittima nel pomeriggio di oggi di un incidente stradale lungo l'A18. Per causa in corso di accertamento, l'uomo che viaggiava a bordo di una Fiat Panda presa in leasing, nel primo pomeriggio, mentre si trovava a percorrere l'autostrada all'altezza e l'abitato di Giardini Naxos, arrivato all'interno della galleria che sovrasta il centro Naxiota, è andato a sbattere frontalmente con un'autocisterna. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, all'interno della galleria si era da poco verificato un incidente tra tre autovetture. A causa di lavori in corso, si viaggiava infatti a doppio senso di circolazione, l'uomo arrivando a velocità sostenuta, per evitare di tamponare la vettura già coinvolta nell'incidente, ha invaso la carreggiata opposta, dove però in quel momento sopraggiungeva l'autocisterna. Fatale l'impatto con il mezzo pesante per il sessantenne. Notevoli rallentamenti verificatosi su quel tratto autostradale, sul posto sono intervenuti il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco della caserma di Letoianni.